Eccoci, nuova puntata di questa serie su Final Fantasy VII Remake Con... No, la scoperta di Final Fantasy VII Remake Siamo qui a fare giochetti vari, sale, scendi, fare, dici, ammazza questo, ammazza quell'altro, fare cose E si apre a questo senso, vabbè Tu apri, tu tira giù Ok, a posto A posto Eh Certo, potrei evitare di schiacciarli, però va bene Ok L'appunto E adesso siamo tutti Cloud, Tiff, tutti Mo siamo tutti Adesso Siamo tutti Vamo Ci sarà un altro boss brutto Altre robe brutte Eh, certo Sarà Secondo me Siamo tornati, ancora Sì Ehi Ehi Cosa Che Ahia Ahia Signori Stiamo per affrontare Al boss No? Non è vero? Eh? Va bene Eh? Sì Certo che siamo No 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 Proseguiamo verso il tetto Vai vai Quale cosa è sospeso Vai 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 andiamo Su Cosa è sospeso Non c'è niente è sospeso Vai Vai Andiamo Per carità Per carità C'è di sangue Che poi non è sangue Una cosa blu A meno che non è sangue di puffo Ci sono anche i puffi Su Final Fantasy VII Remake Ci sono anche i puffi Ditevi se ci sono anche i puffi Ok Vabbè stiamo inseguendo Un puffo sanguinante Anche se mi sa che non sarà un puffo Però c'è il sangue di puffo C'è il sangue di puffo Che senti? Che senti? Cosa? Deathman no no voglio aiutare a non secondo me secondo me qua c'è un boss qua c'è un boss brutto qua c'è un boss brutto è arrivo è che caspita io capivo si arrivano aspeccio da fare oh porca miseria allora sì ok oh hai rotto ora te la sudoco no 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 lascialo la lascialo lì lascialo lì dai pesta la manina pappete gli fai fan volo dai ma lascialo cadere cretino vabbè a meno che a meno che lo prendi punti fucile boom ma fallo cadere giù Ma quando E adesso Saranno problemi seri Adesso saranno problemi seri Ah Is that really all you want For your names to be cleared That is what matters most to you Okay More than shutting down the reactors Than the future of the planet itself Sì Bravo cretino Potevi lasciarlo morire Vabbè You With their old world ruined Will they thank you for the new I'm going to give you a chance One last opportunity to consider what your principles are truly worth but bear in mind that time is of the essence And what about you Mr. President What are your vaulted principles Ah What principles did you understand even a single word of what I told you I know what I want and I take it I take advantage of whatever I can and discard that which I cannot Vabbè Okay 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 Ah 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 Quindi Ma Barret quindi è andato Alla fine È morto da cretino Quello che ha dimostrato Ma ho laychee Mamma Ma ma This is The source Of everything Cioè Ah O Hey Of cabeça Queen D Oh E' andato Una legugazione CheACK Che vuol dire? Ah 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 Ok Allora, cominciamo Magie Ignis Arto sinistro Ma E' un Oh Tifa Tifa Magia Magia Energia Cloud Va 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 Il Ah Mutirazione Va Ah Attenzione Ok Allora, cominciamo Magia Ignis E' Tifa Magia Ignis Ridotto Dando ridotto Non gli fa niente Allora, magia Fulgor Intenta ridotto Magia Gli fanno danno Ridotto Magia Gli fanno danno ridotto Alla Meno male Ok Allora Abilità al limite Colpo incrociato Genova Ma cosa Ma cosa Ma cosa Vai 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 E' 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 tutto Difficile E' tutto Di Ma Cosa Va Aia La mena Uh E' Aspetta Tifa Oggetti E' Sconforto Furia Panacea Cloud Oh Ah Ah Vai Vai E' C'è Viene Tutto Quanto Vai Non veniamo Tutto Vai Vai Uh Cosa Cosa Ah La La peppa Allora Senti E' E' Allora Edit Magia Rinascita Cloud E' Tifa Invece No Milione E' Ok Allora Cloud Allora Edit Magia Rinascita Tifa Poi Cloud Invoca Ifrit Amonì Ho capito che qua sarà lunga la cosa La puntata sarà tutta su sta caspita di boss fight Sì Sì Ah Eeeh 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 Che cosa dobbiamo fare Cloud Fuori combattimento Eh Fincheri già Eeeh Eeeh Ti ha ridotto tra l'altro Oh Eeeh Porca miseria Edit 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 Allora Magia Rinascita Cloud Eeeh Mo adesso Allora Cloud Non Non ce la si fa Non ce la si può fare Non ce la si può fare Vai Ecco Cloud Allora Oggetti Cosa di Fenice Tifa Vabbè ragazzi Non è possibile Però eh Non è possibile Però Allora Porca miseria Ok Magia Energia Su se stessa Perché questo Perché Dovrei poter Nooo Non mi fa Sto brutto scherzo Non mi morire Purca trota Allora Oh Oh Nooo Che hai curato Ok Ok Oggetti Colare di Fenice Cloud Eeeh Ok Allora Tu Limite Salto mortale Su Genova Cosa Ah Poi Ciao Allora 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 L'onigite Allora Ok allora è un gran casino allora magia energia successo ma dai ma che cosa ma perché questi ho capito però la tifa oggetti con i fenici e cloud ora per favore per favore potete evitare di farvi seccare allora aspetto ok tifa 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 e erit erit no tifa magia energia su cloud porca miseria abilità al limite colpo incrociato genova ok oh e mo e mo allora magia rinascita cloud no no e poi magia rinascita tifa nooo ok calmo stiamo calmi stiamo molto calmi stiamo molto calmi no 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 qualcuno c'ha no oh sono liberato ok allora allora erit magia rinascita cloud dammi cloud maledetta alla tifa magia energia su erit ma dai ma come ogni colpo che danno e fa fuori uno è possibile come caspita è possibile allora erit 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 magia rinascita cloud oh 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 caspita allora allora cloud magia e ne gira su se stesso ok ma non è che possa invocarlo di nuovo perché non mi dispiacerebbe ora no 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 oh hey ok allora qua c'è un po di roba da fare allora no via 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 allora tifa c'ha bisogno di oggetti e panacea tifa curiamo l'alterazione via ma porcamite ok 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 via 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 allora cloud magia e ne gira su se stesso poi abilità limite colpo incrociato genova cosa dai oh non gli ha fatto niente non gli ha fatto niente non gli ha fatto niente riflesso difensivo e non possiamo fare niente ok ah ti devi finire ok ok ah cosa che cosa ah ah e siii che caspita mi me… ma io me dovrei ok ah 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 no ah ah no ah ok Ok, ok, ora, no è ancora, è ancora, vai affando, poi, oh yeee, non li, fai gli fuori tentare, capito? Ah, ok, vai, ok, tentacolo anche adesso, dai, ma porca, allora, Cloud, magia, energia su se stesso, vai, ok, Ah, 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 e ancora, tentacolo, uh, c'è ne uno per tutto, per ogni lettera alfabeto, ah, c'è ne uno per ogni, oh, E che caspita, ah, ah, vai, c'è ne uno per ogni lettera alfabeto, quanti torsi se tentacolo, vai, poi, mi cappa, eh, vabbè, Oggetti Aia Campazione, Cloud E niente, è persa È persa È persa, non perché non posso rianimarla Non posso rianimare nessuno, allora, magia Energia Su se stesso, non posso rianimare nessuno Non posso rianimare nessuno Non posso rianimare nessuno Non posso rianimare nessuno E la foro non ce la posso fare mai, vediamo dove arriva, ma la foro non ce la posso fare mai E anche, vabbè Mi ne ho seccati due, erano tutte assieme E, inizia la prima battaglia E vabbè E è brutta E è brutta perché è lunga E lunga Non ne uscirò mai per davvero Help me Help me tutta la scenetta Allora Compra Oggetti Vendi Accessori Anello magico Non ci facciamo niente nessuno Vai Vendi Armi e cose C'è due braccialenti Risonanti Ma non so chi darli Ah uno posso darlo a cloud Però aspetta Aspetta Spipaggiamento in materia Cloud Il geometrico Il risonante Braccialento Si Braccialento Lì davanti a te Mentre Che sta succedendo Tutela a piazza Cosa Mi trilla Minch una cosa che Vabbè Ne abbiamo fatto molto Però vabbè Meglio che niente Allora L'alto braccialento L'alto braccialento Risonante Allora Vendi No Armi e accessori Vabbè Gli vendo il geometrico Intanto Si Eh Tutela Minata Quante Scusa 40 E 10 No 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 Allora Io direi Questi qua Direi Compra Accessori No Oggetti Codri Fenice A Tempesta Ma tipo Più che se ne può Perché ho capito Che serve Ok Vai 18 Codri Fenice Va bene Si E Anyone out there Vabbè Ok Vabbè Andiamo di là Vabbè Ok Sal Continua Noi Allora E continua Ok Adesso si può saltare Grazie Ricominciamo 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 Ci impazzisco Presso Non Non G G G G G G G Non sono Cosa mia Non 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 Riesco A Entrare Non Riesco A Entrare Nei Meccanismi del G RPG Non Riesco Proprio Entrare Nel Meccanismo del RPG Non Ci riesco Proprio Ok Oh Santo Cielo Allora Cloud Magia Energia Su Se Stesso Ok Uppamelo Tensione I get I get I get I get I get Intensione No 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 Ok Ma Che Cado Il Piore No E Che Allora Aspetta 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 Ti Eh Tifa Magia Energia Cloud 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 Abilità Limite Colpo Incrociato Su Genova Vai Vai Oh 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 dai che è ok cosa ok allora cloud magia energia vai ok ho capito che qua deve andarci eieieieieie ok ok, a ver... a ver... a ver... a ver... oop ooo... me... a ver... a ver... a ver... attenzione... nooo... Magia Energia Sono energia Va bene Sono energia a certi punti va bene Grazie Invoca No ancora no Vai Magia Energia Vai Aspetta E poi Allora invoca Ifrit vai Vai Ifrit Vai Ifrit Non ci farai molto Però Non ci farai molto Però vabbè Allora Ok Magia Energia Cloud Poi Poi Inizio Ingrociato Alto sinistro Vai Vai No 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 Anzi 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 Facciamo una cosa carina La cosa carina è Magia Energia Cloud Ok Ok Con la calma Bravo Ifrit Continua Il menallo Vai Vai Inca No Era 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 Stavo dicendo Stavo dicendo Non me ne portavo L'attacco fuoco Vabbè Vai Cloud Tifa Ora dovrò Facere Allora Tifa Magia Energia Su te stessa Ehi 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 Allora Tifa Allora Cloud Magia Energia Su se stesso Tifa Magia Energia Su se stessa E L'alleno E poi Oh Oh Scusate Qualcuno ci può andare Per favore Qualcuno ci può andare Per favore Oh Oh Ok Calma 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 Ok Calma Magia Energia Cloud Energia Finché Non è La situazione Proprio Disperata Mi Aspettiamo Appena Fini Oh Voi Torniamo Oh Molina Con Elastro Ah No Nacero via 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 allora magia energia su se stesso cos'altro c'è qualcun altro danno al momento no oh oh ma che che ok mamma mia però che che noia allora no ancora no no aspetta magie energia cloud visuale no ecco perché sì ecco ecco perché sì ecco perché sì caccio di buddha ok tifa un poco di energia dati no 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 che cosa sopravviva ehi 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 ero ok, non finito a prossimo grazie, anzi, allora, cloud ok no, io, allora ma è inutile che me la limite adesso è sprecata ok, adesso si crociato, genova pulso, va bene vai oh, ecco no, no, no no, 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 no è in reflex è in reflex il cacchio allora, tifa dacci tu dacci una bella limite ok adesso e adesso è il momento dei delle tante dei tanti rovini no vai ok erit magia erit, erit, erit ma usatela un poco di magia per ripristinarti energia ok tentacolo F ok allora tifa, 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 magia, energia, tutto e stesso vai ok vai 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 tentacolo P, mamma quanti sono ok allora cloud non posso usare magia io però tifa, tifa, tifa magia energia a cloud no ah eccezionato poi ah ok dai Sì, vabbè Ok, allora Erit Magia Rinascita Cloud Ok, allora Poi Tifa Magia Energia Erit Poi Aspetta, Erit Erit, 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 Erit Limite, vento guaritore Benissimo E mo Mi hai fatto meno Oh Ah Uuuu Essa Mai affan No Cacchio, cacchio, cacchio Cacchio, 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 cacchio Ok Lenni Non ci sono altri Porca miseria Erit, 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 Erit Non usartela adesso ti prego Magia Rinascita Cloud Ok, grazie Chi fa Chi fa Magia Energia Cloud Dov'è Questa è la Questa è la Presto difensivo E adesso Con la calma no no devo stare calmo devo stare calmo devo stare calmo ok non è lì staccolo F di nuovo abbiamo ripeto l'alfabeto vabbè vabbè lì qua C questo C a Roma aggiungerebbero tua però ahio allora magia energia cloud ok non lì mi chiamiamo ma perché ora 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 una cosa carina ok magia energia se stesso tifa magia energia a se stessa ma erit magia energia a se stessa ma io perché eh ma ah questo è sensibile questo è sensibile stiamo calmi stiamo calmi stiamo tranquilli io continuo a non capire cosa devo tagliare tentacoli in eterno ok perché perché quello è immune al momento noi stiamo continuando a tagliargli i tentacoli ma c'è qualcosa che sto sbagliando è evidente che c'è qualcosa che sto sbagliando perché ti taglio tentacoli ma lui non è difente proprio non gliene può fregare di meno riflesso difensivo poi si mette riflesso difensivo che devo fare e lui è ancora tagliamo ancora tentacoli io continuo a non capire cosa il diavolo dobbiamo fare noi però io posso fare vabbè eh cloud cloud no magia energia energia su te stesso io l'ho detto a faud ma va bene te stesso ok no mi sembrava strano mi sembrava strano io io continuo a mirare a quello eh e noi mi pareva anche qua ah di questo di questo io senti abilità limite colpo incrociato genova vai a fare genova ok 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 e ti fa limite salto mortale al genoma oh oh la stiamo riducendo no ecche 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 andiamo devo andarci solo con l'anima devo andarci solo di allora cloud lui non può usare magie ma ti fa sì quindi magia energia su cloud va beh eee cloud io hai hai cloud ha dei problemi cognitivi non riesce a capire io dirigo da una parte e lui dirigo da una parte e lui da da un'altra io hai evidente che cloud abbia dei seri problemi cognitivi oh cacchio allora eilith magia rinascita cloud poi tifa magia energia su se stessa poi cloud non ne ha appena ne ha ok cloud magia energia su se stesso stare sotto allora erit erit anzi terra magia te la fa tifa non facciamo scherzi non facciamo scherzi per favore mi fuorano robe ma mi vuoi andare dove devi andare ah 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 allora si l'horican è coming true eh tifa magia eh energia su te stessa io qua siccome c'è il raggio del raggio nero della morte stare sotto i 2000 punti vita è alquanto pericoloso quindi come qualcuno scende sotto i 2000 punti vita è meglio insomma non allora immune tutte cose immune però io non eh forse l'immunità è dalla magia oh aspetta allora eh tifa 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 magia energia cloud ah ok ok ah 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 non ah non ah Oh, non ci credo. Dai! 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 Ma porca! Che è? Oh, caspita! No? Cos'è sta cosa? Cosa succede adesso? Ok. Eh, ora, ricominciamo. C'è con la pioggia pure di schifo. Quindi io non... Nooo. Nooo, non ho pure. Allora. Eh, Cloud. Non puoi. Tifacy, Magie. Energia, Cloud. Oh no. No. Mmm... 0,1. Com'è? Ma... Ma... colpo incrociato e Genova pulso ci sono tentacoli no non 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 Dio, da un po', ma ce l'ho. Ok, questo è andato. Poi. Altro resto. Ma porca. Cloud. Non è lei. Fra un po', intanto fra un po' devo usare la limite di... Ok. Edit, limite, vento guaritore, dai! Eale! Ah! Cazzo. Cazzo. Questo è il passivo. No. Vabbè. Ok. Questa, metti tutti abbastanza bene. Come punti vita. Aspetta. E... E tu? Dove pensavi di essere di andare? Ah. Ah. Ma no. Ma è dove, è dove. È dove. Oh! 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 Via, 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 via. Allora. Cloud. Magia. Energia. Su se stesso. Vai. Ok. Ah. dobbiamo uscire gli arti di quelli di poi arti sono 30 anni allora ok cloud mangi energia tutto stesso vai cloud mangi energia a te stesso vai 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 orca dai vai vai via via vai vai aah no 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 allora qua allora magia eh energia cloud eh tifa magia Energia, Tifa, Elite, Magia, Energia, Elite, ok, mamma, ma che oscura difensione, dov'è, dov'è poi andare, allora, limite, colpo ingrociato, parte sinistra, ok, dove porca miseria sei, allora, allora, vai, questo è uno, poi, vai, dai, 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 e la peppina, fanno, un giro, oh, non ti fa vera magica, ma è magica, eh, sui colpi fisici, i colpi fisici non gli aiuta, eh, Tifa, 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 qualcuno mi fa scendere, ok, no, 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 allora, ok, eh, Cloud, Magia, Energia, vai, attenzione, ok, un'ora e due minuti sta durando sta boss fight, un'ora e due minuti, un'ora e due minuti, sono qui, la registrazione è più di un'ora, è al boss fight eterna, eterna, ma porca miseria basta, ma vai giù, va, va, e questo è uno, allora, io dopo, poi, allora, no, 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 no no non c'è nancialante pina ok cloud magia energia tutto e stesso ok hai rotto ci hai rotto i tre quarti ok ci hai rotto i tre quarti stay back to go vabbè edit 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 no si edit magia no energia su te stessa vai arith ah 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 oh allora merda tifa magia energia cloud no no allora tifa magia energia su te stessa e allora e allora dita magia che vai a a ma 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 allora oh cacchio oh cacchio oggetti mega pozione su di te fai di mega pozione eeeh dai 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 che oh cacchio ah 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 tifa 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 limite salto mortale su arto sinistro uh estrema estrema maaa cosa è 49 cosa è cosa è che cosa è cosa è che cosa è Ahia... Ok... Ma... Cosa... Ah, serve su Barrett? Barrett... Are you hurt? Don't think so. This death was not the one ordained by fate. Thank you. Che cos'è? Che cos'è? Cos'è? Allora... Adesso intanto mi siedo... Tanto ormai... Qua... Non solo terrò unico, lo faccio moltiplicato, non lo so, non ho idea. Poi... Compra... E quadri fenice... Omega pozioni... Stai... Ok... E andiamo... Scusa... Scusa... Ma non dobbiamo... Scusa... Com'è? Com'è? Scusa... E restate conti... Allora... E mo' come ci dovrei andare però? Scusa... E qua... E qua... E qua c'è un altro qua sinistro... Che cosa... E... E... Sali! Dai! Vai! Sephiroth... Non rompe i gatti... Sephiroth! Sali! Sali! Non fai... Non fai stronzate... Va... Batin e basta! Cosa? Due! Cosa? C'ho capito un cazzo... C'ho capito nulla... Vai! Andiamo! Andiamo! E' tutti ok? Ehi... 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 Sì... Vai! Andate... Per favore! Ah... Niente... Ehi... 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 Palle! Ehi... 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 Vabbò! Va bene! Ok... Allora... Magia! Mamma... Va bene! Ok... Mamma... Ehi... Ma... Putta sta... Allora... Magia! Ehi... Ehi... Fulgor! Ok... No... Però è ridotto! Non gli è fatto niente! Eh... Ehi... Ok... Magia! Ehi... 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 Niente! Ignira... Lupus! Ehi... Niente! Lui non ha... Vabbè! 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 Ho capito! Ho capito! Ho capito! Magia! Ignira! No! 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 Buona tu! Ok... Magia! Ignira! No! 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 Devo... Devo... Far fuori... Devo far fuori quella! Devo far fuori quella! Va buona tu! Allora! Oggetti! Mega pozione! Cloud! Ehi! 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 Poi! Ehi! Ok! Ehi! Ma eh sì! Vabbè! Io non... Vabbè! Non so come devo gestirlo questo! Allora! Mangia! Mira! Niente! Puffamelo! E mi prende lo stesso! Io non... Non so che devo fare! Non so cosa 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 devo fare! Vabbè! Sentite! Io ho già fatto tanto! Questa... La registrazione intera è di un'ora e sedici! E direi che è abbastanza! Poi lo riaffronterò in un altro momento quando... Me la sentirò! Quando me la sentirò riaffronterò sta cosa e... E boh! E boh! Io vi saluto qua! E vi do appuntamento alla prossima!